Mirko, il titolo senior numero? Non mi ricordo, penso il sesto, non lo so, senior, hai visto, è indovinato. No, beh, è normale, sembra un cambiamento italiano importante, poi in vista degli europei un piccolo step per vedere un po' lo stato di forma. Ho ripreso abbastanza benino, adesso abbiamo ancora un altro mese di lavoro e vediamo cosa esce fuori agli europei. Infatti, come ti stai preparando, che obiettivi hai per questi europei? Tra l'altro è un'annata in cui cambiano parecchie cose per la pesistica internazionale, per cui cambia un po' anche l'approccio. Assolutamente sì, è un anno davvero importante questo, soprattutto perché a luglio avremo il cambio di categorie, quindi stiamo attendendo questa cosa molto importante. Gli europei saranno uno step di passaggio e sicuramente un titolo importante perché vengo da Cambio Europeo Senior. È sempre una responsabilità, però cercheremo di fare il nostro meglio. E poi dritti dritti all'appuntamento importante che sarà la qualificazione olimpica a novembre mondiali con le nuove categorie e vedremo un po' su dove lavorare. Grazie.